Signore e signori, buonasera. Il mio nome è Francesco Fontanelli e sono un prestigiatore, un mago, un illusionista. E mi sono appassionato alla magia sin da quando ero piccolo, grazie a mio papà che mi ha trasmesso questa passione. E quest'oggi vi vorrei raccontare di alcune delle lezioni più importanti che la magia mi abbia mai insegnato. In particolare vi vorrei parlare di meraviglia e di quanto io ritenga che la capacità di meravigliarci sia qualcosa di fondamentale che dovremmo allenare in ogni giorno della nostra vita. E per parlarvi di meraviglia vi vorrei raccontare del primo effetto magico che io abbia mai eseguito di fronte a un pubblico. Pensate, avevo appena sei anni e quel giorno avevo con me un fazzoletto rosso come questo, che chiaramente passai nel palmo della mia mano. E poi lo inserì nel pugno chiuso della mano sinistra. Dopodiché feci un gesto magico ed incredibilmente il mio fazzoletto si trasformò in un uovo. Tadà! Magico, non è vero? Volete sapere il trucco? Volete che vi sveli il segreto? Che di solito è quello che mi chiedono sempre tutti? Beh, siccome siamo al TEDx, è un'occasione speciale, vi voglio svelare il trucco di questo mio primo effetto. Il gioco è semplicissimo. L'uovo è finto, è di plastica e è forato e il fazzoletto ci viene nascosto all'interno. Lo so, una volta che si scopre il tutto sembra molto più semplice e banale di quanto non si pensasse prima. Però sapete, uno dei miei più grandi idoli e maestri, Sylvan, dice che conoscere un gioco è niente, saperlo fare è già qualcosa, saperlo presentare è tutto. Quindi lasciate che vi mostri tutte le piccole accortezze e sottigliezze che vi serviranno per poter presentare questo effetto, così che lo potrete riproporre ad amici e parenti. Mi raccomando, se vi riesce, ditegli che ve lo ha insegnato Francesco Fontanelli. Se invece non vi riesce, beh, in quel caso non dite niente. Allora, voi partite prendendo con la mano destra sia il fazzoletto che il vostro uovo, tenendolo nascosto in questo modo. Poi passate il fazzoletto nell'altra mano per qualche volta e lasciateci cadere segretamente il vostro uovo. A questo punto arriva la parte in cui si diventa tutti un po' Pinocchi, ci viene il naso lungo. Perché? Perché si dichiara a tutti apertamente che si andrà a inserire il fazzoletto all'interno del palmo chiuso della mano, quando in realtà lo state inserendo all'interno del foro dell'uovo. Poi a questo punto fate il vostro gesto magico e mostrate a tutti che avete trasformato il vostro fazzoletto in un uovo, godendovi il vostro meritato applauso. Ah, no, 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 cosa importante, mi raccomando, state attenti a non mostrare l'uovo dalla parte sbagliata, altrimenti il segreto verrà spoilerato a tutti. Ora però ho una domanda per voi. La domanda è questa. Secondo voi qual è la vera magia? La vera magia è il primo momento di stupore e meraviglia che avete provato la prima volta quando avete visto quel fazzoletto trasformarsi in un uovo? Oppure la vera magia è il trucco, il segreto che c'è dietro. Beh, ovviamente questa non è una risposta che spetta a me dare, anche se personalmente mi piace pensare che la magia sia qualcosa di questo tipo. Sì, quest'oggi non sono qui per parlarvi solo di alcuni trucchi magici, ma vorrei invitarvi a entrare nella tana del bianconiglio, a attraversare lo specchio, perché vorrei svelarvi quelli che sono i veri segreti di noi prestigiatori, così che potrete riapplicarli nella vita di tutti i giorni. Perché se ci pensate il mago non è altro che un esperto di problem solving. Perché? Perché deve prendere un sogno impossibile e trovare un metodo pratico per poterlo riportare nel mondo reale, sul palcoscenico. E quest'oggi vi vorrei parlare proprio di come noi prestigiatori riusciamo a compiere questo processo, di come sostanzialmente riusciamo a realizzare i nostri e i vostri sogni. E come si può unire il mondo della meraviglia a quello della realtà? Beh, attraverso il mondo della fantascienza. Quello che vedete alle mie spalle è Arthur C. Clark, un famoso scrittore fantascientifico che scrisse tre leggi, tre leggi del suo mondo di fantascienza, che però sono anche tre leggi del mondo dei maghi. E sono diventati un po' i miei tre mantra. In particolare la prima legge dice che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è quasi indistinguibile dalla magia. Che innanzitutto è verissimo, perché se io mostrassi uno smartphone a un uomo di Neandertal, questo molto probabilmente mi prenderebbe per uno stregone. E contemporaneamente è anche il perfetto riassunto di un gioco di prestigio. Perché? Perché noi maghi che cosa facciamo? Noi maghi inventiamo dei metodi particolarmente ingegnosi. Utilizziamo delle destrezze di mano, percorriamo delle vie alternative alle quali nessuno aveva mai pensato prima, che per noi sono dei semplici trucchi, ma per tutti gli altri sono vera e propria magia. Quindi sostanzialmente non c'è sogno che un mago non possa realizzare. Infatti la seconda legge di Arthur C. Clark dice che quando uno scienziato afferma che qualcosa è possibile, ha quasi sempre ragione. Quando invece afferma che qualcosa è impossibile, ha molto probabilmente torto. Basti pensare a tutte le teorie scientifiche che sono state confutate nel corso degli anni. Non so, per esempio per secoli si pensava che fosse il sole a girare intorno alla Terra. Quando però qualcuno riuscì a pensare fuori dagli schemi, a andare oltre le convenzioni e i luoghi comuni, scoprendo così, Copernico d'Oshet, che in realtà quello che fino a qualche momento prima era ritenuto impossibile, non si trattava altro che della realtà che tutti avevano davanti agli occhi sin dall'alba dei tempi. Proprio come in un gioco di magia. Quindi abbiamo appurato che noi maghi siamo bravi in questo, a creare tecnologie quasi indistinguibili dalla magia, che riusciamo addirittura a rendere possibile l'impossibile. Ma come si può allenare questo approccio? Beh, questo ce lo svela Sikrark nella sua terza legge, quando afferma che l'unico modo per poter scoprire i limiti del possibile è avventurarsi nell'impossibile. Perché è proprio questo il compito di noi prestigiatori. Noi maghi dobbiamo istillare meraviglia negli occhi di chi ci guarda, dobbiamo scardinare l'ovvio, dobbiamo mostrare che la realtà non è sempre come appare, ma soprattutto dobbiamo creare il dubbio nella costellazione dei pregiudizi di chi ci sta osservando. Perché forse aveva ragione Aristotele quando diceva che la vita, così come la filosofia, è meraviglia e che avremmo tutti bisogno di un pizzico di stupore e di magia in più nella nostra quotidianità. Ora però, siccome sono un mago, so che cosa state pensando. Sicuramente starete pensando sì, molto bello riuscire a rincorrere i miei sogni a colpi di bacchetta magica e meraviglia, ma come può un gioco di prestigio ispirarmi a realizzare i miei sogni? Beh, a me piacciono molto gli esempi pratici, quindi lasciate che vi racconti la storia di Edmund Cartwright. Edmund Cartwright è considerato uno dei padri della rivoluzione industriale, in quanto inventore del telaio meccanico. Una macchina straordinaria per l'epoca che riusciva a tessere molto velocemente. E sapete come Cartwright ebbe l'idea per inventare la sua rivoluzionaria macchina? Beh, quando vide quest'altra macchina, un'automa fatto di ingranaggi e meccanismi di metallo, tipo quello del film Hugo Cabret, per capirsi, che riusciva a vincere a scacchi. Per l'epoca fece il giro del mondo, riuscì a battere anche Benjamin Franklin e Napoleone. E quando Cartwright vide quest'automa, pensò che se una macchina fatta di metallo poteva batterlo a scacchi, allora lui poteva inventare una macchina per tessere più velocemente. E così inventò il suo telaio meccanico. Quello che Cartwright però non sapeva è che in realtà questo non era un computer super all'avanguardia per l'epoca, ma si trattava di un vero e proprio gioco di prestigio. Passatemi il termine, una truffa. Perché non si trattava altro che di una scatola con un doppio fondo all'interno del quale c'era nascosto un nano che manovrava la macchina durante la partita. Ah, cosa importante, dentro ci deve essere nascosto qualcuno che sape giocare bene a scacchi, se no il gioco non funziona e la partita non viene vinta. E quindi vi ho dimostrato di un classico esempio di come un gioco di prestigio possa aiutarci a realizzare i nostri sogni. Ma siccome sono un mago, ancora una volta, so che cosa state pensando. Sicuramente starete pensando, sì, molto bello, però io non devo né dare via alla rivoluzione industriale né tantomeno truffare Napoleone. Nel concreto, come posso utilizzare questo approccio, questa tendenza verso la meraviglia nella mia vita di tutti i giorni? Beh, sapete, se c'è una lezione che la magia mi ha insegnato, è che si può trovare qualcosa di straordinario nell'ordinario. Che, detta così, sembra una frase fatta molto bella, ma che cosa vuol dire trovare lo straordinario nell'ordinario? Provate a rifletterci, non vi è mai capitato di ripensare a un momento particolarmente felice della vostra vita che magari non vi eravate goduti appieno, forse per via di una stupidaggine. Oppure a uno particolarmente triste che, affrontato col sorriso, sarebbe risultato meno pesante. Ecco, questo è quello che mi ha insegnato la magia. Questo significa trovare lo straordinario nell'ordinario. Vuol dire riuscire ad essere presente nei momenti felici e ad affrontare nel migliore dei modi quelli più tristi e infelici. Perché se c'è una lezione che ho imparato nell'osservare la meraviglia negli occhi degli altri, è che se siamo abituati a stupirci della nostra quotidianità e siamo allenati a trovare appunto lo straordinario nell'ordinario, allora siamo allenati ogni giorno della nostra vita a creare un nuovo sogno, così da poterci sentire ogni giorno più vivi. Ora però, da bravo mago, sento un po' di dubbi. So che cosa stai pensando ancora una volta. Sicuramente state pensando, sì Francesco, molto bello essere aiutati a realizzare i propri sogni dalla meraviglia, ma nel concreto come si può trovare la straordinarietà nel quotidiano, nell'ordinario? Beh, lasciate ancora una volta che ve lo dimostri. Facciamo così, prendete tutti i vostri smartphone, mi raccomando, fatelo tutti. Aprite tutti i vostri cellulari e per favore cercate di non concentrarvi sulle centinaia di notifiche che sicuramente avrete ricevuto negli ultimi minuti. Fatelo tutti e anche voi da casa che ci state guardando attraverso uno schermo, anche voi prendete i vostri smartphone e aprite la calcolatrice, d'accordo? Fatelo tutti, aprite la calcolatrice dei vostri cellulari. Lo faccio anch'io così che possiate seguire il tutto. E gentilmente, per esempio lei che è in seconda fila, mi può dire un numero qualsiasi a tre cifre, quello che vuole. 113. Perfetto, allora digitate tutti 1, 1, 3 e a questo punto premete per il moltiplicatore. E per esempio lei, in prima fila, anche lei mi potrebbe dire tre cifre, quelle che preferisce. 4, 6, 7. Fantastico, allora digitiamo tutti 4, 4, 6, 7. E ancora una volta premiamo per il moltiplicatore. E per esempio magari con lei, gentilmente mi digiti i primi tre numeri che le vengono fra le dita. Sì, sì, digiti tre numeri a caso e li dica a tutti, ad alta voce, che numeri mi ha digitato per cambiare un po'. 6, 4, 7. Allora anche noi premiamo tutti insieme 6, 4, 7. E a questo punto premiamo tutti uguale. Ovviamente il risultato che tutti otterremo sarà 34.142.837. Se qualcuno ha sbagliato, eh ragazzi avete sbagliato a digitare, ok? Ora però abbiamo bisogno di qualcosa di veramente ordinario, random, caotico. Quindi facciamo così, gentilmente lei si può avvicinare e solo io qua sul mio cellulare premo meno e gentilmente mi può mettere l'indice in su, è importante l'indice, non il medio mi raccomando. E guardi, io lascio il cellulare piegato così, lei prema un po' di tasti a caso, quelli che vuole. Perfetto, così che si diverta pure, eh? Ok, non esageriamo, ne ha premuti un bel po'. Così che ora avremo un numero veramente casuale. Fatelo anche voi, anche voi premete meno e sottraeteci il numero che abbiamo appena creato casualmente. Quindi dopo aver premuto meno, digitate 28030815. Quindi dal numero di prima ci sottraiamo 28.030.815. Ora io blocco il mio cellulare, voi tutti premete uguale. Perché siete d'accordo? Sarebbe veramente straordinario se io riuscissi a indovinare questo numero. Ci provo, eh? Non è facile. Ovviamente noi non ci conosciamo con le persone alle quali abbiamo chiesto i numeri, non ci siamo mai visti prima d'ora, assolutamente non ci siamo messi d'accordo in alcun modo e ovviamente poi abbiamo digitato anche un numero a caso, quindi io in alcun modo non potevo sapere quale sarebbe stato il numero che avreste creato voi quest'oggi. Ora, al mio 3, potete dire tutti ad alta voce quale numero mi avete creato tutti insieme? Uno, due, tre. 6.112.022. Beh, signore e signori, è veramente straordinario perché io qua ho scritto 6.112.022. Due. Ma, 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 ancora una volta so che cosa state pensando. Sicuramente qualcuno di voi sarà pensando che, in quanto studente di farmacia, magari sono solo molto bravo in matematica. No, vi assicuro che con i conti sono una schiappa, ma siccome io quest'oggi vi avevo promesso di dimostrarvi che si può trovare qualcosa di straordinario nell'ordinario, mesi fa, quando ho inviato queste slide allo staff del TED, slide che non possono essere modificate in alcun modo, in queste slide avevo nascosto una previsione per ognuno di voi. Avevo nascosto che il numero scelto di questa sera sarebbe stato 6.112.022. Ma, 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 io quest'oggi vi avevo promesso di dimostrarvi che si può davvero trovare qualcosa di straordinario nell'ordinario e che a volte i momenti più semplici e quotidiani sono quelli più belli e importanti. Sì, questo era il mio messaggio per ognuno di voi quest'oggi. Oggi, il giorno del TEDx. Il 6 novembre, undicesimo mese dell'anno, 2022. Allora sì, forse è proprio vero che la meraviglia è un diritto fondamentale al quale ognuno di noi dovrebbe allenarsi quotidianamente e che la magia è un'arte antica, vecchia di migliaia di anni, che non è fatta solo di trucchi e segreti, ma che per me ha rappresentato un vero e proprio approccio alla vita e mi ha aiutato a raggiungere e realizzare la maggior parte dei miei sogni. E spero da quest'oggi aiuterà anche a realizzare i vostri. Perché forse aveva ragione George Bernard Shaw quando diceva che l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Grazie. Grazie.